Un mercato ittico al centro del porto di Fano, con la caratteristica di essere a miglio zero, cioè direttamente dal pescatore al consumatore senza intermediari. È l'iniziativa di Coldiretti Impresa Pesca, che sabato 14 marzo alle ore 9 inaugurerà la nuova struttura. Collocata nella darsena centrale, è stata realizzata grazie alla collaborazione del GAC Marche e dell'Atifano con il gruppo Pesca Servizi. Negli otto banchetti i fanesi proporranno prodotti di stagione, dalle seppie alle triglie fino a cozze, vongole e scorfani. Noi non vogliamo fare concorrenza al mercato, è solo un sistema per poter valorizzare il nostro prodotto a miglio zero. Sono le piccole imbarcazioni che devono cercare di pescare tutti i giorni, quando il tempo lo permette, in modo che possono fare reddito. Altrimenti con le mareggiate e i tempi avversi non riuscirebbero a fare reddito, perché portando il pesce al mercato, all'ingrosso, pochi quantitativi non riescono ad avere un ritorno economico. E così non hanno una sopravvivenza per i piccoli pescatori. Per l'occasione sarà presentato un Vademecum per aiutare i cittadini a scegliere il prodotto più adatto al periodo, assieme ai consigli, per riconoscere quello fresco. All'inaugurazione saranno presenti il responsabile nazionale Coldiretti Impresa Pesca, Tonino Giardini, il presidente del GAC Market, Arcisio Porto, e ancora il direttore della Coldiretti Pesero Urbino, Paolo Di Cesare, il comune e le autorità portuali. Pesce fresco, ma non solo. Perché questo nome? Perché aderirà anche la Coldiretti con i loro stand di frutta, verdura, formaggi e quant'altro. Ma ci sarà una convenienza anche per quanto riguarda il prezzo? Come no? Sì, è logico. Un prezzo minore di qualche euro sicuro. Dunque in che giorni sarete aperti? Tutti i giorni della settimana, tempo permettendo. Con che orari? Dalla mattina a sette e mezza fino a mezzogiorno, l'una. Questo vi permette di poter vendere pesce durante tutta la settimana. Invece prima quanti giorni lavoravate? Due o tre giorni solo, la settimana, perché il mercato era chiuso, non potevamo vendere la domenica in regola, quindi era poco, non coprivamo le spese praticamente.